Nella sede di Via Marconi a Montecatini Terme, l'associazione sistemare, acronimo che sta per sistema integrato, sviluppo tecnologico, maltrattamenti, abusi e rete, fa il punto dei progetti realizzati di quelli che si stanno avviando. La materia di cui si occupa l'associazione, riconosciuta dalla Regione Toscana e attivata su iniziativa dell'associazione 365 giorni al femminile, è la realizzazione di iniziative concrete a favore di donne vittime di violenza. A partire dall'offerta di opportunità di lavoro per persone che abbiano urgente necessità, si parla anche di vittime di tratto, sfruttamento, detenute o ex detenute, persone in condizioni di disagio familiare o individuale, di recuperare la propria autonomia. Ora sistemare è realizzata una rete che conta soggetti pubblici come Provincia Comune di Pistoia, Asle 3, Società della Salute della Valdegnevole, associazioni di categoria, tra le altre CNA, Confattigianato, Confesercenti, soggetti che operano nel sociale come la cooperativa ECHE. Il primo obiettivo dunque è ampliare la rete per ampliare la gamma di soluzioni possibili. Con oggi avviate un secondo step nel vostro progetto, in che consiste? Dunque il secondo step è cominciare a rendere pubblico il progetto che in qualche modo è già una rete, un networking formato di opportunità che si rivolge prevalentemente alle donne che sono in cerca di autonomia economica. A partire da oggi cominceremo a lavorare su un'autoformazione e poi sul sviluppo di un blog al quale tutti possono accedere, sia nel mondo del lavoro, imprenditoria, associazioni di categoria, enti pubblici, eccetera, sia le donne in cerca di occupazione o di opportunità di autonomia. Il progetto è aperto anche ai media in che termini? In termini di interattività. Quindi noi pensiamo di coinvolgere i media attraverso un'azione di reciprocità fra noi e i media, intesa come interazione attiva nel nostro blog, che è appunto un blog sistemare, sistemare.org, attraverso servizi informativi, cioè mettere in rete anche i media su tutte quelle che possono essere le opportunità che il progetto intende sviluppare.